SIIIIIIIIII Guarda abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Come sempre bomberoni Vi ricordo che se volete potrete sopportarmi nei negozi oggetti con 12 Cratore Eze Yt Se shoppate mi dimenticate il video su Instagram Ricordatevi il video e buona visita Prendami a like Se volete un nuovo video su Fortnite E mi raccomando commentato tutti quanti qui sotto Con queste emoji Se volete ricevere un cuoricino da Fratello Martelloi Are you ready? Ciao a tutti ragazze, sono Rizzhector e bentornati quest'oggi In un nuovo video di Copia dei WALLS Quest'oggi bomberoni siamo tornati finalmente con un nuovo video su Fortnite nella nuova season Quindi ci sono anche tante cose che noi ancora non sappiamo Però abbiamo già scoperto un glitch Esatto, ce n'è una in particolare che ci spi Oggi ragazzi siamo qui per portarvi un glitch su come far vittorie reali infinite su Fortnite Perciò andrete a fullarvi il vostro pass battaglia così A proposito di pass battaglia mi raccomando codice supporta creatore EZYT Altrimenti avete il... Biribongo piccolino Il cuore che lo mette in difficoltà Ci siamo, allora bomberoni Siete pronti? Molti di voi non ci crederanno ma raga oggi vi faccio vedere come vincere in modo proprio molto easy Ma lo vogliamo spiegare Vai spieghiamolo Allora quello che dovremmo fare come prima cosa è atterrare nel punto in cui c'è il fumo blu Dopodiché, che tra l'altro è lo stesso punto dove atterrano anche quegli aree iniziali Dopodiché quello che dovremmo fare è scendere e selezionare un bot a caso tra di loro E dovremo atterrarlo Una volta atterrarlo dovremmo andarlo ad accherare Una volta accherato ragazzi questo bot sarà dalla vostra E dovrete farlo scagliare contro gli altri robot Una volta che ucciderà anche solo un robot Voi potete fare la scala Ma quanta gente c'è? Non so perché ma mi sa che questo glitch qualcuno non l'ha già capito Oh! È arrivato Thor Ma laga tutto Vedi qua Vedi qua Vedi qua Vedi qua Vedi qua bot lo hackeriamo ragazzi Sì hackeralo Ma non ho visto altri bot vivi però Vedi qua c'è qualcosa che c'è il nemico c'è Oh si sta si sta Eccolo Non armi Ma perché mi dà sempre l'hackog? L'hackog Ah ok perfetto Vedi qui Lo hackeriamo Vai 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 Scaglialo contro quello Guarda guarda questo Guarda questo Guarda vai 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 Matalo matalo Guarda dove sei girato di là? Perché l'ha sparato un altro Bravo 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 Guarda quello No no proteggi lo vrà Buon idea Ancora anche lui Ancora anche lui Faccio la schiera Vai Vai ragazzi Spalate L'ha fatto L'ha fatto la misa Guarda un po' lì L'ho ucciso L'ho ucciso Allora teoricamente Posso già fare il gliccio raga Dove stiamo? Sì 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 Allora quello che devi fare Arrivato a questo punto È fare una mega scala E in pratica ti devi Andare a buttare giù dalla scala Ok allora Costruisco eh Inizia a buildare Ancora una Andiamo su Andiamo su Andiamo su Vai 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 Buttati Andiamo sempre più su E ancora più su No ce l'ha Ok ok Allora Una volta fatto questo Regà noi adesso Andremo a aspettare Un giocatore In modo randomico Dovremmo attendere La fine della partita E lo so che sembra strano Ma dovremmo vincere la partita In pratica dovremmo Continuare a aspettare E verso la fine Verso la fine Esatto Quando avremo il vero vincitore La sua vittoria Verrà duplicata su di noi Quindi In questa partita A morale della favola Vinceranno due persone Il vero e proprio vincitore Quindi colui che rimarrà L'ultimo sopravvincito Nella mappa E noi Regà Fa parte del glitch Che mi stiamo portando In pratica questo glitch Non danneggia gli altri giocatori Perché comunque Tu ti fai semplicemente A duplicare In pratica Non fai neanche una vittoria vera Ma sono tutte così E si sono fast E ricordiamo comunque Che noi questi glitch Li facciamo vedere A scopo illustrativo Bravo Bravo Per fare in modo Eeeh Eeeh Per fare in modo Che Epic Possa capire Dove ci sono Le palle nel sistema E magari Guarda tutte queste scale Di genere Avete visto che hanno Rintrodotto i robottini Pre-loot Sì Guarda qua Guarda che genio Ma è morto Uuuuuh Mamma mia ragazzi Thor leggendario Comunque per chi non lo sapesse Io direi che nel mentre possiamo vedere Vi spiego che cosa è successo In pratica Abbiamo Thor Ma chi? Galactus sta parlando No 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 Vite la fiesta Ooooooooh Ahahah 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 Guarda Io lo stavo spiegando Perché poi non lo sapete ragazzi Io l'avevo capito subito Da quando ti ho detto Ma chi? Rindeva un botto con gli occhi E ho detto Ma adesso Adesso No io non finisco Dai Mi hanno cyberbullizzato La tempesta è partita La safe è qui E lui è lontanissima Ma no Ha smesso di giocare Nel frattempo A noi poche importe Perché le persone che continuano a morire Ci avviciniamo verso Ha ripreso Eccolo qui Willy Willy Allora Lui In safe ci arriva Siamo rimasti in 26 Oh ma che è di là Guarda 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 di là Guarda di là Raul girati a sinistra A sinistra porca miseria Che c'è tipo atlantide L'hanno richiamato Mamma mia Raul Però L'hanno richiamato a telefono Vai Raul C'è anche lo sparabende Quindi va bene Girati Raul Gira ti faccio vedere la mappa Raul Guarda 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 vedi Che bello Un applauso a Raul Grazie Raul Ma Raul ci muore zio Raul adesso ci muore Perché è appena partita Questa è la tempesta più veloce Oh fantastico Cascano pezzi di one sauce Allora Raul è morto ragazzi Da una parte meglio Perché così adesso Magari aspettiamo un play Oh No dai Raul Raul ti prego Ma Raul Sono rimasti in 14 Raul compreso raga Ci stiamo avvicinando Al momento della vittoria reale Più in merita Questa sarà la mia vittoria reale Più in merita Nella storia di Fortnite Eh ma che è È un pesce nuovo Pesce dorato Se voi sapete che cosa fa Questo pesce dorato Mi raccomando Fate sapere qui sotto Nei commenti Sì sì ragazzi Un fight Un fight Oh mio che bello Che bello Lo perdi sicuro Che com'è di da Raul Va Raul Oh Vedi ma che sono Di ste robe No ragazzi Ho aggiunto troppa roba No secondo me Si possono usare I poteri Sì 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 Ci sono i poteri No 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 Raul Eh fra uno che gioca In quel modo Qua c'ha 5 kg ragazzi Questo qua sembra Molto più skillato Rispetto a Raul Da notare che hanno rimesso Il combat Quindi grazie Epic che finalmente Avete rimesso Un pompa Dece Hai visto Attenzione Ma Guarda ragazzi Qua c'è un ottimo aim Guarda Eh controller Fra 24 24 È il controller È il controller Guarda lì Guarda È il controller È allucinante È assurdo Guarda davanti C'è la sotto Guarda che usa il potere Vedi che però Ma 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 Questa roba Ma quanti poteri Sta collezionando Questo Raga Non sapete Tutti i punti Che sta facendo lui Hai visto Che te l'ho detto Che stava saltando Fra Guarda Indovina di chi è Silver Surge Silver Surge Ho 7 kill Potrebbe andare anche Indovincitolo Ma ne ha un botto Raga È il mio potere Questo È un mostro Dai tiralo Vai Boom Mamma Oh non l'ha visto Davide Oh Oh Che spettacolo Questo è Oh raga Questo è un nuovo modo Su come prenderla I ground Avete visto Sì 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 È strautile quel potere qua Poi prenderla L'anchezza Questo gioca forte Questa è forte raga Questo gioca forte Questa è morta vero Oh 16 16 16 di danno col pompa Oro Fatto sta che comunque C'ha 8 kill È fortissimo Grazie Sono rimasti in 6 Uno là sotto Adesso ho dato l'ottorità Mamma mia Sono rimasti in 5 Sempre meno ragazzi Siamo vicini al momento Della verità È bianco È bianco È disfrutto Dai Usa Usa Dottor Destino Questo è il glitch Più facile Della storia di Fort Prendela a prender così ragazzi Lui mamma mia Come è build Questo Lui fa cattivo Oh Non si perché era qua Non avevate capito voi Non so Manco io Ciao Eh ciao Sì è andato Pippi calze lunghe Mamma mia Che giocatore Oddio L'ho preso L'ho preso L'ho bruciato Ma fa pure fuoco Sta bruciando tutto È legale quel bagaglio Guardalo L'ho visto sotto Guardalo L'ho visto L'ho visto io L'ho visto bene Ok Perché l'ho ucciso Oddio Oh Stai rischiando Che missato Uno contro uno È il momento della verità È là dietro È là dietro L'avete visto? Sì ma deve usare Dottor Destino Eccolo Guarda guarda Eccolo Oh Mamma mia Eccolo Oddio Ragazzi Sai che se poi muore? Se poi muore Se poi muore Buon che è sta roba? È una nuova trappola Comunque hanno aggiunto Un botto di cozzo Un botto di cozzo Oh È bianco È bianco Ha vinto È bianco che lui Sì Oddio È lave di vita Sì Guarda abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oddio mio Guarda Statistiche Se ne ho qua Ci dà quelle che abbiamo fatto noi Esatto Però vittoria reale Perci abbiamo i punti Anche dalla vittoria reale Qua raga Non c'è dato i suoi punti esperienze C'è dato i punti esperienze Che abbiamo fatto noi Prima di effettuare il glitch Però La vittoria reale Raga ce la dà Ci hanno dà Vedi Questa è l'ombrello Che ti danno Quando fai la prima vittoria reale Questo è l'ombrello Che ti danno Quando fai la win Che bello Ebbene sì Quindi anche questo video È giunto al termine Anche questo glitch È riuscito Magari un po' più noiosetto Rispetto agli altri Raga però Efficace Molto semplice Intuitivo Ti porti Se voi fate così Qui all'infinito Se voi fate così Vincete E sai come si alza il rank Potete fare il vostro record Di vittoria reale Su forte di infinito Oh sai che stile è Vedete questo ragazzi Mi raccomando Spolleggiate Commentate Iscrivetevi al canale E soprattutto Ci potete anche Il canale Degli Quasi Ci vediamo Ad un prossimo Aspoltamento Ciao 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 Ciao